Salve a tutti amici e ben ritrovati, io sono Semi Terry e eccoci qui per l'episodio di FIFA 20, molto allenatore. Siamo andati a Mr. Terry e al suo Olimpique Lione. Nella scorsa vittoria abbiamo avuto la vittoria in finale contro il PSG e la vittoria della Coppa di Lega, la seconda Coppa di Lega francese. E ha avuto anche una bella vittoria contro il Rennes, per se il 3 ne vado male, se è a 4, ovviamente il gioco vuole farci perdere, ma noi con 7 a 4 abbiamo distrutto questa squadra. Oggi avremmo affrontare il NIM e il NANCE, prima dei due grandi big match per noi contro il Marsilio e il Monaco, che potrebbero garantirci un step up, un sviluppo, diciamo, un'avanzata nella classifica in quanto, vedete, siamo vicini a noi. E se magari hanno qualche problema in queste due partite che abbiamo oggi, siamo vicini, così vicini da poterli superare. Allora, il Marsilio sta a 3 punti, quindi la vittoria noi la prenderemo. Non so se siamo noi quarti o noi dietro, insomma, però li prenderemo. Ma non c'è stato l'episodio, pensiamo a questa giornata, come si è a 3 punti, il Monaco ha 6 punti, e il Montpellier, che ormai sembra distante, ma ha un tempo in più, ha 11 punti, quindi in teoria è anche essa a 8. In questo episodio, questa giornata, avremo Monaco, NANCE, non si è facile per loro, e Brest contro Marsilio. Speriamo bene che il Massimo NANCE perda colpi, è anche un po' il Monaco. Ma, oh, dai, a giocare contro il NANCE, vediamo un po' cosa succederà, quindi, ne fa la squadra, e pronte a giocare. Ok, davanti sono un po' stanchi, fra le paia, ua, vini, giusti, ma noi, in fronte della vostra, siamo di posta di scherza minima, e perché anche con il NANCE possiamo perdere colpi. Forza, l'in-pick a lei, potreste a casa la vittoria, ragazzi. Bene, eccoci qui, a casa nostra, al parco dell'in-pick, al Gruppama Stadium. Bene, il NANCE, questa è una squadra, non c'è una borda, ma stiamo sempre attenti, noi, non pensare solo a vincere. Bene, bella squadra, complimenti, vai, Antonio Lopes, capitano, cazzato la Coppa, è contento, e anche il pubblico, stiamo pronti a sostenerci a tutto fiato. E qui, non so, bombe, Dembele, forza, Dembele, anche tu, fai il tuo, mi raccomando. Dai, non è fuori gioco, non è fuori gioco, non è fuori gioco, non lo è, non lo è, finisci, finisci, giugno, puoi entrare in aria. C'è, se lo parlo per Depay, che la stoppa di Petra, e poi, provare una rivolciata, ma, la parla è già fuori. Ok, qua c'è incontro il partito, che non va a seguire, però stiamo attenti, che loro lo seguono molto bene. Posso adersi che stanno traguendo bene, questa volta scuola che si vive troppo. Però Vinicius, cerca spazio in aria, Vinicius, Vinicius, il tiro! Che botta di sinistra, che non è il suo piede, che botta! E questo, a destra, può essere un ottimo acquisto. Troppo forte Vinicius, lo voleva anche al Milan, ma finalmente posso truccare il Monquellione, e questo si è più adatto, è che il giovane deve crescere. Bel gol, bel gol di Vinicius Junior. Guarda qui che botta di sinistra, perfetto, un bel tiro, complimenti. Forza ragazzi, se non ha 0, facciamo un altro, se no così qui ci fanno male. Se non fare 3-0 sul gioco non ti fa, diciamo, stare calmo. Vinicius, cerca spazio. E allora prova, Michele è sempre veloce. Sotto, ma indietro, Michele. Vinicius Junior, vorrebbe provare la botta, invece la finta, cerca... E poi! E tutti chiuso di lui, tutti chiuso di lui. In una seconda tutte le chiuso di lui. Grande Bruno, no, Bruno, continua, Bruno. Con la morte è anche un bruttissimo tiro. Però Memphis, per la pallone, Memphis, che... Non riesce dal suo pallone. Beh, comunque, per esempio, finisce qui, dai, forza abito. Beh, per esempio, finisce qui, con l'1-0 di Vinicius, che è quello più in forma per ora. L'1-0 è importante, ma sappiamo che in questo gioco mi fa il più gol possibile, diciamo, quelli possono ribaltare. C'è anche a te con Nan, segna un po' che succede. Prima di far uscire a guarda, sinceramente, dare spazio per riposare. L'hanno rincao, che è anche molto marcato, quindi magari dà un cambio. Ma il rincao per fare di più, che è più fresco. Vediamo un po'. C'è il segnale dell'arbitro, comincia il secondo tempo. Ma il rincao che proprio la valla la tiene. Però il rincao, tra l'ora è... Gimmi la sera, ragazzi, giochiamo. Guarda Memphis. Guarda Memphis. Guarda Memphis. No, vabbè, avanti. Cioè, quello... Anche se c'è il mio piede avanti, lui riesce a mettere il suo piede. Perché? Arriva. E qua c'è il gol. Che è anche fuori del gioco. Subito, anche guarda il fuori del gioco. Subito. Cioè, tutto a rifare, cazzo al cavo. Quando ci testa, rimane lì il pallone. E subito, guarda, guarda, guarda questo qui. E questo chi è? Riparto. Non c'è fuori del gioco, non male. Però che cavo, vedi come si chiude in due. E i diventieri centrali saltano. Salta uno. Non torna più a coprire nessuno. Guarda Vinicius. Che è il più che cazzo a lui. Vinicius. Vai, Junior. Entra in aria. Con cattiveria. Cattiveria. Per Trincao. E il 2-1. 2-1 di cattiveria di sinistro. Che è di Francisco. E' entrato. Che con una botta tremenda. Bucca la porta. E fa il 2-1. Meditato del Lion. Che stanno dominando la partita. Ma stiamo dominando. E quelli con un tiro e un gol hanno fatto. Bello Francisco. Così. Il baffettino che non perdona. Trincao meraviglia. Ci porta sul 2-1. E lo fanno un altro. Perché qui non si posta le cammi. Se hai visto. Un tiro e un gol quello. Un tiro e un gol. Qua passa la pasta. Cattiveria. Ma. Non so. Non si seleziona. Poi neanche si muove. Non si muove. Non si seleziona. Non dobbiamo aprire gli spazi. Va, raga. Cioè. Buttala via. Bravo. Cioè. Però, gente. Il gioco. Cioè. Sì. 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 E' vicino a Kim Ben-Pè. Perché un genitorio deve fare questo movimento. Che è davvero contro senso e contro producente. Cioè. Fuori gioco. E penso che sia finita qui. Mamma. Dove vai a battere quello. Tieni là lì. Anche c'è il recupero. È finito il recupero già. Ghimeraia. E sta a larga per te te. Tieni là lì. Ma l'altro dovrebbe anche fischiare. Che io dall'altro. Incavo lì. Maladat Cornet. E vabbè. Vincevo da uno. Meno male. L'assonato tutto. Nostro del gioco. Con un solo tiro. Io vorrei dire i tiri ha fatto loro. Quanti hanno fatti? Tre tiri. Dicono loro. Va bene. Comunque. Due tiri. Due porta. E un gol. Va bene. Nel costito. Un bel down. E la vicenda. Tre tiri. Tre tiri. Ma le tiri. Quello batte sul portiere. E rire. Ma anche quello. Info gioco. La dà come tiro. L'impatto. Abbiamo vinto. Vero. Ci vediamo tre punte a casa. Andiamoci. Da oggi. L'importante. L'imbattibilità. È imbattuta. Vedete? Cioè. Questa vada a dire. Che il gioco è stanco. E noi vinciamo. Pensiamo alla prossima partita. Non ci interessa niente. Deve un solo gol di discard. Ma chi se ne frega. Ma chi se ne frega. Dalla scuola che. Che noi abbiamo dominata. Ero tutti chiuso in difesa. L'abbiamo visto. Non come immense. Ma quasi. Due tiri in contropiede. Che cosa vogliono questi? Che c'è? Non ho giocato. Lo so prima. Ma va bene. Allora. Allora. Alleniamo i nostri. I nostri giorni. Ero tutti. Renè è tua. Perché me lo scordo? Allora. Allora. Cresce difensivamente. In campione. Siamo sempre tre punti. Dalle marsie. Che non perdo ovviamente. Contro i non. Kenny Teter. Dieci milioni. Ma io lo tengo. Perché. Alla fine. È un'ottima riserva. Mi gioca bene. Lo prenderemo il prossimo anno. Se dicimi io. Non prendono i pensori. Del suo parolo. Il suo potenziale. Non c'è che un tessino. Non mi va. Non qui c'è qualche talento. Allora. Abbiamo due talenti. Loic Boumon. Che è un buon potenziale. Già. Da oggi. Come poverone buono. E potenziale. Non è altissimo. Ma io lo prenderei. E l'altro è. Aurelian. Gautier. Che sembra un cinese. Nazionalizzato. Ah. Dovevo togliere qualcuno. Che non c'è spazio. Io so chi togliere. Anzi. Pogliamo qualcuno. Adesso. Settere. Pogliamo lui. E così c'è spazio. Vediamo un po' chi abbiamo preso. Staff. No. Sbaglio. Dovevo essere staff. Non va bene. Ecco. Primavera. Con. Dove sono. I miei francesini. Deluxe. Non c'est tu. Luc Boumon. 58. Buono. E abbiamo un esterno sinistro. Che è. Buona velocità. Ma è quindicenne. E poi Gautier. Che portiere. Francese. 7094. E vediamo un po' come cresce. Bene. Andiamo avanti la partita. Che è importante. Andiamo un po' che succede. È la Norvegia. C'è l'Irlanda. Però io rifiuto. Scusate. Anche la. Che è l'Irlanda. Del no. Addirittura. Non c'è tempo. Carino. Non vado a Philadelphia. Va bene. Effetto. Vai board. Prestito. Ci pensano. Non vado. Non vado. Non vado a presto. Accettiamo. Non ti possiamo. Ci bastere. Ah. Per il prossimo anno. Bene. L'ospite contro i Nans. Il Marsiglia ha pareggiato. Quindi sta a 4 punti. Andrebbe a 3 punti. C'è Marsiglia. Ma ha pareggiato. Contro chi è Marsiglia. Lili. Inge tra 0. Ma comincia 4 a 1. Passagione. Inge tra 0. Per quello che non interessa. Marsiglia dice 1 a 1. Buono. Ha vinto con press. Ma perde. Perge con quelli. E c'è Lili che sta a 2 punti. Marsiglia ha 4 punti. Ha 1 punti in più. E poi Mon Piede rimane lì a 8 punti. E non è Monaco. Che è 1 punti in più. Quindi andrebbe a 6. Eh. Si stiamo avvicinando ragazzi. Ce la possiamo fare. Ce la potremmo fare. Se non vincere tutte. A vincere tutti. E' un po' che ci chiedono qui. Buonasera. Buon sua. Buon sua. Prima di andare in campo. Tu no. Io andrei. Se giocherà la squadra. Il kick sarà stanco. Bello bravo. Perché ce l'ho. Chi deve giocare. Per cercare di. Per cercare di successo. Dica come sempre. Lotteremo. Fino alla fine. Che avviene. Se no. Ha. 4 punti. La Europa League. 6. La Champions. Dai. Si può fare. Con tanti secondi diretti poi. Che possa essere un po' breve. Anche un buono. Se vinciamo. Rincoloca la torre in gogna. Fa la squadra contro il Nance. E poi. Cicchia di puntata a casa. I 3 punti. Bene. Scuola di torre contro il Nance. Trina fuori di casa. Annes non deve voler me male male. I 2 sono questi. Forza ragazzi. All'Aolympique. 3 punti sono importanti. Bene. C'è qui. Asso del Nance. Tutto giallo. Tutto giallo. I casi carini. Un piccolo angolo solo bianco. Vediamo quel piccolo angolo bianco. Tanta gioia. Quanto meta. La vittoria è essenzia e veloce. Entri dai. Per tutti noi. Nostro capitano. Che è già stanco. Non c'è il piovele tutte le partite. Ragazzi. Ah c'è. Perché ha fatto anche il miracolo. Quindi. C'è un po' c'è anche. Tu sai. Vinicius. Giro e palla del Lione. Come sempre. Vinicius. Palla l'uomo. In aria. Il pallone. Ecco c'è rigore. E c'è rigore per Lione. Forza ragazzi. Mano sinistra. Stai calma. Ok. Buck. Ha fatto tutto. Memphis. No. L'ha parata. C'è che l'ho piazzata all'angolo. E quella è ma l'ha parata. Va bene. L'ha parata. Ma noi ci seguiamo. Allora. Ci facciamo un gol di cattiveria. Però no. Si viene giusto. Ci sono di cattiveria. Vabbè. Ma non è che poi ripieni il pallone. Dembélé resiste. Che cosa. La nostra. La nostra. Vai Dembélé. Bravissimo. Gimeraia. C'è un po' di confusione. La squadra dell'Ans. Che sono spaventati. Grande. Vinicius. Lo lascia lì. Lo lascia lì. Non ce ne sono libero. Dembélé. E l'1-0 di Musa. Dembélé. Il nostro bombe. Che a secco. La sua partita. Segnò una. Vinicius. Bell'assist. Nonostante il rigore sbagliato. Il Lione può andare in vantaggio. Con Musa Dembélé. Grandissima azione con Vinicius. Dembélé. Si è fatto trovare al posto giusto. Aumento giusto. Gol. Bene. Musa Dembélé. 1-0 l'in pick. Forza ragazzi. Continuiamo così. Guarda come sono ora. Alti. 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 Larghi. 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 Però colpì lì in contropese. Ci riusciamo. Sì. Eh. Che cosa ha fatto. La palla passa sul mio giocatore. Mi ha fatto però Fischer qui. C'è la palla è stata sul mio giocatore passata. No. Non mi ha superato la palla che mi passa accanto. Sul mio giocatore. Comunque. Ma si dai. 1-0 primo tempo. Siamo attenti a non subire. Alcuno ha fatto un tiro. Ma non ha fatto un tiro. Che viene fuori gioco. Eh. Si fanno. Ha fatto un tiro. È in fuori gioco. E glielo danno. Tanto che farei. Per dire che hanno fatto un tiro. Vabbè. Mi sono attenti alla ripresa che quelli subito faranno gol. Possono fare. Quindi mi dice no di fare subito gol. A pesca. Guardalo. Bella palla di Awar. Però per the power. Mamma mia. Awar. Che palla di prima. Memphis. Memphis. Sfuttosto in area. A me. Mi è marcato. C'è il caro. Awar. E divenzola. C'è tiro. E divenzola è lì. Sul mio tiro. E questo è quasi un gol. Ma ma cagà. Vai a Awar. Fai cattivo. Fai cattivo. Valla Vinicius. No. Perché è così passaggio. Ribi che l'ha dato su esterno. C'è l'altro Torre. Non ti confondi. Non sei tu. Vinicius. Puoi lasciare di Torre. Vinicius. Vinicius. Vai che cavolo. Vai 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 ragazzi. Il tiro sul portiere. C'è io tiro sul secondo palo. Mi tiro sul primo palo sul portiere. C'è un incambio che è 70. Sì un po' stanchi. Allora. Al centro. Trincao che porta bene. Cornè per Vinicius. E poi forse tu stavi. Mentre già Lucas. No. Mettiamo Mendes. A posto di Gimerares. Un po' di offensività diciamo. Vai Francisco. Il lento fresco fresco. Bella palla per Cornè. Torre. Fai un movimento. Non è fuori gioco. Non male. Torre. Bella palla per Cornè. Che lascia lì difensore. Cornè. Cerchiamo Mendes. E' il 2 a 0. Adesso che me lo insegnavo. Dalla Dembélé. Per fare la doppia. Che ci stava pure. Anche se vi c'è il portiere. Ma bene così. Anche un gol. Basta che gol. Con Mendes perfettamente imbeccato da Trincao e da Cornè. E' un bel gol sul primo palo del portiere. Che non fa manare. Sotto per te non fa milare. 2 a 0. E' un partito che in Toria potrebbe essere chiusa. Se riuscire a ottenere la botta. Guardate come salgono tutti. Guardate come salgono. Se riuscire a ottenere questi 5 minuti. Potrebbe essere chiusa. Potrebbe. E' vero. Siamo attenti. Sono più preloci di me. Ma palla per Cornè. Che ha spazio. Torre non può senerlo. Cornè non può Trincao. La botta è il 3 a 0. E ora è chiuso. E ora è chiuso con Francisco. Che ancora una volta segna. Entra e segna. Vedo. Io ho detto. La squadra è stata fatta buona. Cioè era già buona per me. Manca qualche tassello. E con Trincao. Finicius. Tra ora. Ha venuto la squadra perfetta per me. Già il primo anno. Già il primo anno. Una squadra perfetta. Ho fatto anche gli automatismi con i miei uomini. Chi gioca lì. Chi gioca lì. Chi gioca lì. Meno male. 3 a 0 contro il Nance. E ci porta a un punto dalla zona Rupa League. Del Marciano. Dio. La palla è stata accanto a Trincao. Ma lui non fa il movimento. Simone. Il pericolosissimo Simone. Perché io lo volevo. E' stato che è a Levante. Maledetti. Ancora prima che tirassi. Quello in fuori gioco. No perché Denaglia lo tiene in una grande Denaglia. Maria. Vai a Anthony. Maria a Anthony. Ma tenere lì. Simone che è lì. Ma io ci palleggio accanto. Ma c'è cattivo. Hop. 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 Ancora non mi attacco. La portiera. E lei finisce qui con i palleggi di Entri e Lopez. 3 a 0 contro il Nance. Meritatissimo. Ma ho fatto un tiro in fuori gioco. Vediamo un tiro di da ora. Vediamo un tiro di da ora. Sono curioso. Due tiri. Quindi solo un tiro hanno fatto quelli. E per poco ci segnavano. Ma un impicchio a dominio. Sui tiri. Sui posti a palla. Meritato. Andiamo lì. E c'è lì la fonte. Che potrei che non lo prende come secondo. A partire da Fiorentina. Che prende la fonte come secondo. E si muore come esterno di ripiego. Sarebbe due o tre coppie il prossimo anno. In vista da Champions. La lotta contro il dominio del Paris Saint-Jean-Mont. Buongiorno. Buongiorno. Oh. Imbattuti. Perché anni se non hanno giocato? La Commissione aiuta. Sono le partite da fare. Vedremo quando giocherà lui. Un giorno o gli altri. Perché non è che cavolo veramente? Oh. Ecco. La mia non preferita. L'imbattibilità. Noi siamo imbattuti. Ok. Grazie. E poi cosa c'è? I ragazzi. Intanto vi fai completare. Ragazzi. Ho fatto la terra straordinaria. Grande partita del mio Olimpiglione. E con questo andiamo a un punto da Marsiglia. Grazie. Arrivederci. Ok. Un punto da Marsiglia. Prima della partita contro Marsiglia. L'anima è nostra. Togliamo però René e Trinua. Mettiamo i giovani titolari che abbiamo. Ecco Paschia che deve crescere tanto. Paschia che deve crescere come finalizzazione. Dubois. Poi a trinua via per chi mettiamo. Allora Paschia che ha messo. Mercier o Van Damme. Tutte le ali qua. Non tanto però c'è parte Van Damme. Mercier. C'è una rampissima. Non c'è nessuno. Qui non c'è nessuno. Di nuovo. Quindi neanche sono tutte le ali quindi. Quindi non facciamo allenare. Prima di tutto il nostro caro Van Damme. Che è il più veloce. Perché difesa. Eccolo qui. Non c'è la scala controllo. Pallet dripping. Gilles. Dubois. Lo lasciamo perché mi piace. Perché è forte. Però lo alleniamo anche altri titolari. Come skin. Così in casa dobbiamo venderli. O rimangono in squadra. Perché sono già di livello migliore. A meno questo. E Gilles. Che è qui. Ho tanti stenni. Posso dire. Mercier. Che è l'altro secondo veloce. Ecco qui. Questo è il titolario di allenare. Quattro titolari. Che sono in prima squadra. E Dubois. Che il talento deve crescere. Che cresce da 63. 63. Va bene. Vediamo un po' come si muove la classifica. Anche se non dobbiamo giocare prima. No. Gianluca. Se è in presso prossimo anno. Uno dei titolari. Se è il prossimo anno. Rifiutiamo. Ovviamente. Ok. Se non è il primo giocatore. A quanto pare. Contro il Massiglia. La partita è importante. A casa nostra. Podiamo portarci. A casa. Non solo la vittoria. Ma anche il quarto posto. Devo dire Europa. Abbiamo il Monaco a 6 punti. E il Monaco a 8. Quindi. Secondo il 3 posto. Non era vicino. Alla fine. Ragazzi. Abbiamo anche poi. I scontri con Monaco. La prossima. Quindi. Ma. Concludiamo qui. Questo episodio. Invito a lasciare un like. In caso di video vi sia piaciuto. A commentare. E dilla vostra. In cosa avete fatto. Iscrivete al canale. E attivate la campanellina. Se vi vi città le notifiche. Di nuovi video che usciranno. E vi ricordate che seguimmi su Twitch. Dove fare live. E su vari social. Come Twitter. Instagram. Facebook. Così pensate di più sul lavoro. Dotto questo ragazzi. Al prossimo episodio. Nel prossimo intervi. Passo e chiudo. Il prossimo episodio.